Stiamo subendo un attacco su vasta scala a energia fotonica! Non faremo in tempo ad attivare le difese! Oh no! Ci vediamo di nuovo, esseri umani! Guarda là, quello non è il valoroso Koji Kabuto! Koragon! La creazione di un nuovo mondo è quello che desidero! Così l'umanità non avrà più speranze! Questa sarà l'ultima battaglia di Mazinga! Mazinga fuori! Motori in azione! E Mazinga Z! Questo mondo merita di sopravvivere o no? Mazinga Z! Infinity!